La legge aveva fissato una data precisa, quella del 10 marzo scorso, ultimo giorno utile per vaccinare i propri figli e non incorrere nella sospensione da scuola per i bambini fino a 6 anni o in sanzioni fino a 500 euro per quelli fino a 16 anni. Entro il 30 aprile poi i presidi avrebbero dovuto trasmettere alle ASL i certificati di avvenuta vaccinazione. Dati ufficiali su come sia effettivamente andata non ci sono ancora, ma non è difficile desumerlo vista l'esiguità dei provvedimenti presi dagli istituti rispetto al numero degli studenti ancora non vaccinati. Il quotidiano della Repubblica evidenzia come le differenze si rilevino non solo a livello regionale, ma anche di singole città e persino da istituto a istituto. Se l'ufficio scolastico di Torino ha già fatto scattare i primi provvedimenti di esclusione, l'opposto è avvenuto in Emilia Romagna, dove la regione ha invitato le ASL a prenotare le vaccinazioni per tutti, cosa che impedisce di fatto di poter erogare la sospensione. Il Comune di Firenze ha inviato lettere di sollecito alle famiglie, ma non ha fatto scattare alcun provvedimento. Le sospensioni erano invece state applicate in Valle d'Aosta, salvo poi riammettere otto bambini qualche giorno fa. Con buona probabilità altre scuole si muoveranno secondo il metodo usato in Liguria. Nessuna sospensione per ora, ma a settembre si cambia aria. Prepariamoci dopo la pausa estiva ad una riapertura degli istituti tra provvedimenti e contestazioni.